Ciao, sono Roberta Massa di Rete Ricibo. La Rete nasce nel 2017 per il contrasto alla povertà e per rispondere al problema della lotta allo spreco alimentare. Ci occupiamo da allora di questo e siamo cresciuti tantissimo, siamo partiti in sei e adesso attualmente nella Rete ci sono 82 associazioni. Le associazioni della Rete recuperano dai supermercati, dalle mense scolastiche, dai piccoli negozi, dalle piattaforme logistiche, dalle crociere, insomma recuperano un po' da tutte le parti. Questo perché grazie allo stare in rete possiamo recuperare dai 5 kg di pane fino alle 20 tonnellate di cibo. Usiamo un'applicazione che si chiama Bring the Food per tracciare tutte le donazioni che vengono fatte e tutto il cibo che viene recuperato in modo tale che venga mantenuta una totale trasparenza sul territorio. A Genova abbiamo fatto un'analisi di quello che succede e vengono sprecate ogni anno circa 10.000 tonnellate di cibo. Noi ne recuperiamo intorno alle 300 ogni anno ma ovviamente puntiamo a una Genova spreco zero. Tutte le associazioni ovviamente si occupano anche di sostegno alle persone in difficoltà attraverso servizi di distribuzione di pacchi, empori solidali e mense sociali. Quindi noi connettiamo direttamente il servizio del recupero col servizio della distribuzione.